La 41esima edizione dei giochi delle porte si apre con una novità destinata a dare una risposta risolutiva ai problemi della certificazione del percorso di gara che aveva disposto la legge Martini. I giochi sono entrati a far parte della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trek, che ha certificato l'anello del centro storico ritenendoli idoneo alla pratica di corsa sia a pelo che a carretto. Ottenuta la certificazione, se non verranno apposte modifiche in futuro al tracciato, non ci sarà bisogno negli anni di nuova certificazione. Un passo importante per l'ente giochi delle porte che negli anni passati aveva dovuto affrontare più di un problema sotto il profilo sicurezza, con l'ipotesi adombrata di dover cospargere di sabbia l'intero anello di gara nel centro storico, fino anche a dover trasferire i giochi altrove, ipotesi questa lontana dal comune sentire della città e dello stesso ente. Con la certificazione in tasca, la 41esima edizione che ha preso il via questo pomeriggio con il corteo dei tavernieri, si preannuncia quanto mai combattuta sotto vari profili. Il primo è quello agonistico, domenica 30 settembre alle ore 15 inizio dei giochi. Porta San Facondino, detentrice del Paglio 2017, resta la porta da battere in virtù, in special modo, di un animale come Indio, imbattibile a carretto e soprattutto a pelo, sebbene nella domenica delle prove ufficiali San Martino a carretto e San Donato a pelo hanno mostrato muscoli e possibilità. L'altra parte della gara se la giocano arcieri e fiondatori. Il trofeo cardinale di metà agosto aveva incoronato San Donato con Stefano Brunetti per l'arco e San Benedetto con Andrea Ciavaglia per la fionda. Sfida tesa anche per i cortei, sabato 29 settembre, ore 21 e 30, cortei di cui sono stati resi noti i temi. Porta San Donato, che detiene il premio 2018, presenta la fame e l'abbondanza, cronache dalla tavola del 400. Porta San Facondino e il viaggio di Ulisse, San Martino le erbe officinali, San Benedetto la ceramica.